... Alla Camera dei Deputati, affollatissima nelle tribune e in tutti i settori, l'On. Scelva, Presidente del Consiglio, esprime in un discorso il cordoglio del governo per le recenti vittime di Mussomeli. Verso l'estrema sinistra che è insorta con violenta gazzara, De Gasperi ha un gesto di indignazione. Appena tornata la calma, Scelva rassicura il Parlamento. Non saranno le intimidazioni e le minacce ad impedire al governo di difendere la democrazia.